Le spiagge italiane sono invase da rifiuti di ogni genere e volontari dell'Associazione Fare Verde Messina scendono in campo anche quest'anno per la 27esima edizione di Mare d'Inverno. L'iniziativa di carattere nazionale vuole essere occasione non solo per dare decoro alle spiagge cittadine fuori dalla stagione estiva, ma anche sensibilizzare la cittadinanza sull'enorme quantità di rifiuti che inquinano l'ambiente e danneggiano pesantemente la fauna marina. Questa mattina a Palazzo Zanca la presentazione dell'edizione 2018 della manifestazione. La manifestazione è fatta d'inverno provocatoriamente diciamo e quindi perché bisogna ricordarsi che il mare va rispettato sempre tutto l'anno, non soltanto d'estate quando ci piace andare a farci il bagno. Torniamo col mare d'inverno quest'anno al talasso grafico, altro motivo di orgoglio perché comunque facciamo conoscere questa eccellenza messinese a molte persone che magari non sanno bene di cosa si tratta. Puliremo il tratto di spiaggia lì davanti, poi come sempre i rifiuti verranno catalogati, verranno censiti, ci sarà messo in ambiente che provvederà al corretto smaltimento. Insomma cerchiamo di fare il nostro lavoro per bene come abbiamo fatto in tutti questi anni. L'inquinamento dei litorali è quindi un problema che esiste per 12 mesi l'anno e non solo durante il periodo estivo. Mare d'inverno interesserà l'intera penisola italiana e si svolgerà anche le isole Oli e Lipari sulle spiagge di Acqua Calda e Porticello, a Vulcano alla spiaggia delle Sabbie Nere. L'edizione di quest'anno verrà la partecipazione del gruppo scout dell'Immacolata Messina I, il gruppo Masci e zona dello Stretto con altri gruppi. L'appuntamento è domenica 28 alle 10.30 al litorale Istituto Talasso Grafico, zona Falcata.